L'idea è stata quella appunto di proporre una rassegna di cinema d'autore con quattro opere che abbiamo selezionato appunto con Stefano Amadio di Cinema Italiano.it Ecco, quali sono questi quattro film? La prima opera è In viaggio con Adele di Alessandro Capitani, la seconda è Shortskin di Duccio Chiarini, la terza è Daphne di Federico Bondi e la quarta è Tutte le mie notti di Maffredi Lucibello. Innanzitutto esplorare una novità per Poggio, un filone artistico che non è mai stato esplorato forse a sufficienza in questi anni. Quest'anno proviamo con Cine Atelier a aprire le porte di un cinema importante come questo, quello del cinema Ambra, a una rassegna di qualità. Allora, il cinema Ambra ci hanno ospitato perché dopo la presentazione dello scorso anno del mio ultimo porto, dopo la selezione dei nastri e tutti i riconoscimenti che aveva avuto, ho avuto questa intuizione di dire, beh, vi siete resi conto che è un cinema meraviglioso, di 400 posti, che è l'unico nell'Interland e che insomma sarebbe bello valorizzarlo, come è bello in ogni caso in questo momento tutelare le sale, proprio l'esperienza cinematografica in sé, questo ovunque. e quindi loro hanno accettato. Sarà un'occasione importante per il territorio, si proietteranno appunto opere che hanno avuto riconoscimenti importanti alla presenza del regista. Ogni venerdì di marzo, cioè il 13, il 20, il 27 alle ore 21, a partire appunto dal 13 e l'ultima giornata invece sarà una domenica che è il 5 aprile alle ore 16. Grazie a tutti.